Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Apparentemente sembrerebbe tutto normale, no? Cioè, è un mondo qualsiasi di Minecraft Che cosa c'è di diverso? Assolutamente nulla Beh, facciamo così, vi do un piccolo indizio Mmm, vediamo I più svelti sicuramente avranno già capito che cosa sta succedendo Guardate il mio mantellino, ragazzi Ha finalmente una fisica propria Quindi se salto il mantellino salta proprio come nella vita reale Se corro ovviamente va a svolazzare in giro Se giro a destra, a sinistra e così via Insomma avete capito ragazzi? Oggi ci troviamo in Minecraft Ma con la fisica super realistica E io so di aver già fatto un video su una mod del genere All'incirca 5 mesi fa Che tra l'altro vi è piaciuto tantissimo Ma questa volta non solo quella mod è stata migliorata ulteriormente Ma ne abbiamo tante altre che appunto unite con questa mod della fisica Migliorano assolutamente il gioco Rendendolo iper realistico Per chi non sapesse cos'è la fisica migliorata di Minecraft È semplicemente questa La possibilità di far crollare qualcosa con un solo tocco Per esempio un albero È ovvio che se tolgo la base Poi nella vita reale Crollerebbe, giusto? Se tu dai colpi di accetta sulla base Poi l'albero crolla E questo è stato appunto simulato e fatto anche su Minecraft Ovviamente questa cosa funziona anche con le caverne Ciao stupido ragno Aspettate che l'ammazzo perché non ci sono Eh allora quanti mostri ci sono qua? Scusate Per fortuna che sono in creativa Muori, muori E anche loro ovviamente moriranno Con una fisica realistica Va via Allora per esempio guardate questa caverna Sì lo so è molto buia Quindi mettiamo delle torce Così almeno le illuminiamo per bene E uccidiamo di nuovo questo zombie Via È rimasto incastrato Ecco dicevo guardate questa caverna Nella vita reale Se dovessi rompere un blocco da qua per esempio Quindi qualche perno Chiaramente mi crollerebbe tutto addosso Bene Succede anche su Minecraft adesso ragazzi Se rompete una parte importante della caverna Quest'ultima vi cadrà addosso Mamma mia E non solo Non avete ancora visto la figata delle figate Adesso grazie alla nuova fisica È possibile anche lanciare i blocchi A una certa distanza Come vedete Li stai lanciando Proprio come li lanceresti Nella vita reale Cioè quindi Hanno praticamente un'animazione Molto molto realistica Ora se non sbaglio Si può anche controllare La potenza di tiro Ah forse così Più lo tieni premuto Più aumenta la potenza di tiro Per esempio Prendi questo Oh mio dio Allora vi faccio un piccolo esempio Se nella vita reale Dovessi lanciare una spada Sopra un animale Quell'animale si farà male Giusto? Beh anche qua Su Minecraft Adesso succederà Se la lanciate A una certa potenza Guardate Ecco Ovviamente Se lanci una spada In modo violento A qualsiasi persona O animale Gli farai del male Bene Anche su Minecraft Pam Si può fare Oh mio dio Eppure carambolata Sull'altro maiale Neanche se l'avessi provato a fare apposta Ci sarei riuscito Quindi non solo abbiamo Una fisica Totalmente realistica Ma in più possiamo lanciare I blocchi Come ci pare E piace Proprio come nella vita reale Quindi fare Un tiro lungo Alla baseball Prendi questo Ma Oltre a questo ragazzi Abbiamo delle animazioni Molto più fluide Per esempio Andiamo in creativa Bello questo oceano Vero? E se prendessi per esempio Una canna da pesca Per provare a pescare Probabilmente pensereste Beh che male c'è Vai e pesca Bene ok Allora io pesco Ah non vi preoccupate Che cos'è questo? Ma è nulla Semplicemente la lenza Della mia canna da pesca Nessun problema Visto? Super fluida Super realistica Si muove assieme a me Se vado a destra Se vado a sinistra Destra Sinistra In su In giù Come se fosse Una vera e propria corda Realistica E poi pesco il mio Piccolo pesciolino E le sorprese Non sono finite qua Adesso ragazzi È possibile mangiare Il pesciolino In modo realistico Guardate È rimasta soltanto La lisca Idem per quanto riguarda Il prosciutto E tutti gli altri Cibi di minecraft E vi faccio un piccolo esempio Allora Prendiamo una mela Prendiamo una zuppa Del pane Cos'altro potremmo prendere Una carota Un'altra zuppa Anzi no la zuppa L'ho già presa Glowberries Meloncino Alghe Mele d'oro Pesce Tutte queste robe qua Quindi guardate la mela Come la mangio Lasciando il torsolo Quindi la parte centrale Per ultima Ovviamente Poi vabbè Me lo mangio pure Perché faccio schifo E io mi mangio di tutto La zuppa guardate È come se la stessi Letteralmente bevendo Visto che La parte interna Della zuppa va via Pian piano scompare Stessa cosa Il pane Lo mangio come se fosse un panino La carota La mangio dal basso Verso l'alto Quindi non sto mangiando La parte verde Schifosa della carota Ma mangio solo La parte arancione Lo glowberries Stessa identica cosa Non mangio il gambo E guardate il meloncino Ovviamente Non avrebbe senso Mangiare la buccia del melone No? Infatti Mangio soltanto La parte di dentro La parte rossa Visto? Questa mod è fantastica E rende minecraft Ancora più realistico Soprattutto grazie anche Alla mod della fisica Realistica Che si può migliorare In tanti altri modi Per esempio Possiamo aggiungere Una texture pack Una texture pack Che migliora totalmente La grafica Possiamo aggiungere Le shaders Insomma Minecraft adesso Può essere veramente Trasformato in un gioco Iper realistico E questa cosa Un po' Mi fa paura Per esempio Cosa succede Se rompo tutta questa caverna Mi crolla tutto Addosso Oh mamma mia Ciao creeper Aspettate Voglio vedere cosa succede Se uccido un creeper Perché il creeper Non è un animale Realistico Quindi come Ok Gli hanno dato una fisica Piuttosto normale E posso spostare il suo corpo Il cadavere Semplicemente spingendolo Con Con i piedi Tra l'altro Posso anche raccogliere Gli oggetti Da più lontano Cioè Normalmente Ups Normalmente un oggetto Per raccogliere Lo ci devi salire sopra Adesso invece Lo posso raccogliere Anche da distante Visto Molto comodo Un po' come nella vita reale Se hai delle braccia Abbastanza lunghe Riesci a raccogliere Tutto ciò che vuoi Anche Con una certa distanza Insomma ragazzi Questa mod È veramente Fuori Di testa Chissà come si comporta Acqua e lava Penso Normalmente No Cioè si comporteranno Proprio come si comportano Già su minecraft Non credo siano stati invariati No Ok Quindi Acqua e lava I liquidi sono uguali A prima Normalissimi Forse cambia Se ci tiro un oggetto Dentro Sì Diciamo che scivola Più facilmente Con l'acqua Se potete ben vedere Ah e viene No viene proprio Spinto verso il bordo Fantastico Ma adesso Ovviamente Dobbiamo testare Anche le esplosioni E quindi anche La TNT Quindi Prendiamo Della TNT Prendiamo Flint and Steel E spero di non Far crashare Il mio computer E adesso Facciamo così Usiamo il comando Fill Così Non Fill Il nome Cioè Vabbè Fill nel senso Riempimento In questo modo Riempire tutta questa caverna Di TNT Con questo comando Bene Mi do anche la night vision Perché se no Non ci vedete assolutamente nulla La accendiamo E adesso guardate E' piena Zeppa di TNT Ragazzi Oh mio dio Che cosa ho fatto Ragazzi No Ora mi esplode il pc Ah sono sicuro eh Oh mio dio Che lag Guardate tutti i pezzi Di Di pietra Oh no Oh no Mi sa che ho esagerato Sta laggando tantissimo Perché ogni Pezzettino Si è demolito E ci siamo persi tutto Non abbiamo praticamente visto nulla Ok è stata un'esplosione un po' troppo esagerata Forse dobbiamo provare Con qualcosa di più moderato Proviamo con questo Dai vediamo cosa succede adesso Con un'esplosione più normale Oh mio dio E' bellissima Ma avete visto mai una roba del genere Cioè ragazzi Tutta la montagna Tutta la caverna Che crolla Man mano Boom Boom Come se fosse una vera esplosione Della vita reale Cioè penso che questa sia una delle mod più belle In assoluto Guardate Boom 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 Fantastica Cioè immaginate adesso Oh Ora lo voglio fare Scusatemi ragazzi Lo so Lo so Lo so Starete pensando Facci vedere altre cose fantastiche No 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 Immaginate fare tipo un ponte Però magari è un ponte vecchio E' un ponte che volete assolutamente rimuovere Lo volete rompere Perché non vi piace più L'avete costruito male E quindi cosa fate? Lo fate crollare Con un'esplosione a distanza Ok Hai spoilerato tutto praticamente Mettiamo una base un po' più solida Così E facciamo crollare questo ponte Con un'esplosione comandata Semplicemente mettiamo la redstone Qua così Dov'è la redstone? Redstone Ok Quindi così La colleghiamo Tun 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 Ok Adesso un pulsante E Esplodi! Quindi il nostro vecchio ponte Che non ci piace più Lo demoglia Ok E' stato un fail Forse lo devo mettere più sulla TNT Ok Forse se la metto qua Funziona Sì Così dovrebbe esplodere tecnicamente Giusto? Boom Bellissimo Bellissimo ragazzi E poi vabbè Ovviamente se lo rompi Con le mani O con l'ascia Si distrugge tutto quanto C'è una foresta di troppo Nel vostro mondo? Bene Piazzate un po' di TNT In questo modo Così la spargete completamente a caso E l'esplosione Distruggerà tutta quanta La foresta A prescindere da dove voi Abbiate messo la TNT Guardate quanto è soddisfacente E quanto è bello Mamma mia Poi in più potete anche cambiare Le opzioni della fisica Quindi le opzioni tipo dei mostri Possiamo mettergli una fisica Ancora più esagerata Oppure possiamo per esempio Cambiare l'opzione dei blocchi Possiamo fare dei blocchi giganti Quindi tu rompi un blocco E vomita via un blocco enorme Così come possiamo fare anche Un blocco piccolissimo Quindi blocchi minuscoli Vediamo Non li vedo nemmeno ragazzi Sono delle piccole particelle minuscole Che non Come fai a percepirle? Troppo piccole Troppo Insomma ragazzi Avete capito Con questo mod Potete veramente sbizzarrirvi Ma soprattutto Una delle mie cose preferite È la realtà È la fisica Che dà al mantello È alla È alla cannana pesca Cioè è fuori di testa C'è qualcos'altro Il lazzo Proviamo il lazzo No aspetta Con una pecora No ragazzi È bellissimo Anche se credo che questo Forse già su un Minecraft normale Sia già semirealistico Però così è molto più realistico Potremmo addirittura saltare con la corda Vediamo C'è qualcos'altro Forse le vines No no Non mi sembra Oh mio dio Hanno modificato anche queste Cioè se ci passo sopra Le schiaccio Quindi Anche le alghe del mare Allora Lanciamo queste mele Là sotto Mi stai dicendo che se nuoto qua Oh mio dio Non è possibile Ragazzi Questa è la mod Definitiva Del realismo di Minecraft Oh mamma mia Lasciate Oh mio dio Povera pecora Lasciate un mi piace per questo video Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao